La Sardegna è più nera e inafferrabile in un libro. Autore Piero Mannironi, giornalista di Cronaca Nera di lungo corso, che con anime maledette, storie di vita e malavita in Sardegna, questo il titolo e il sottotitolo dell'opera, affronta decenni di delitti, parabole criminali, massacri e misteri irrisolti dell'isola. Un lavoro dove la storia si fa maiuscola e vuole arrivare, come sostiene lo scrittore, alla costruzione di nuovi linguaggi e tempi diversi della Cronaca. E così è nata l'idea di andare a esplorare delle vicende di Cronaca del passato con un atteggiamento diverso, con un linguaggio diverso. Molte appartengono al mio vissuto professionale, la storia della povera Gisella Urru, del mostro di Arbus o quella del bandito Gonario Carta. Altre invece sono proprio approfondimenti e studi di un passato più remoto. Uno scandaglio nei meandri del vissuto sardo, diviso in 27 capitoli, dalla narrazione legata non solo ai fatti, ricostruiti in modo certosino, ma anche all'umanità di vittime carnefici. Ecco, questo libro non ha nessuna pretesa, se non quella di raccontare una parte della nostra storia forse nascosta, forse poco conosciuta e che meriterebbe di non essere dimenticata.